I muri e le mura della città intese come simbolo di unione sono protagonisti della 28esima edizione del Maggio dei Monumenti che quest'anno mette al centro muraria il festival di street art promosso dal comune con il contributo della città metropolitana. Dal 13 maggio al 12 giugno iniziative sono in programma in tutte le municipalità con aperture straordinarie che si alternano a visite guidate, opere di arte pubblica, proiezioni cinematografiche nel sottosuolo, teatro di strada e passeggiate a tema. I light motive sono proprio i muri perché rappresentano un po' la memoria della nostra città storica ma anche della nostra città moderna e questo è un po' l'obiettivo che abbiamo in questo Maggio dei Monumenti che è un Maggio nuovo come idea. Il vasto calendario di eventi è articolato in sei azioni che animano il programma di muraria, parlare, dipingere, guardare, aprire, attraversare e allargare i muri ed è consultabile interamente sul sito istituzionale e sui canali social del comune. Il maggio di oggi non è il maggio di 20 anni fa perché oggi Napoli è già conosciuta, 20 anni fa doveva essere promossa, 20 o 30 anni fa, i luoghi del centro storico soffrono di overbooking, non di mancanza di turisti e oggi noi non abbiamo solo maggio, abbiamo giugno, noi abbiamo l'estate, abbiamo il Natale, abbiamo l'autunno, quindi abbiamo una serie di iniziative che noi spingeremo per destagionalizzare anche l'offerta turistica e mantenerla durante tutto l'anno. Tra le novità dell'edizione 2022 del maggio c'è l'attenzione per i monumenti e i percorsi turistici fuori dal centro storico, previste visite alla chiesa dei Sant'Anna alle Paludi al Corso Lucci, al complesso di Carminello a Emanesi a Forcella, alla chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Secondigliano e a quella dell'incoronata a Via Medina da anni inaccessibile. Nuova quest'anno anche la promozione di tour guidati da parte delle comunità di stranieri sul territorio che accompagneranno i visitatori alla scoperta dei quartieri in cui risiedono e delle loro tradizioni. La nostra città è una città storicamente multietnica, forse la prima vera città multietnica d'Italia e quindi noi vogliamo rafforzare questo legame culturale con le tante comunità straniere che abbiamo in città e un altro modo per fare cultura, creare cultura e creare identità. Gli eventi del maggio che il Comune ha promosso con la collaborazione dell'Istituto Francese Grenoble e del Getty Institute di Napoli sono parte di una più ampia programmazione culturale che la città si appresta ad offrire anche in vista del considerevole afflusso turistico registrato nelle ultime settimane. Sono arrivati a Napoli solo nel mese di aprile quasi un milione di passeggeri, più di 900.000 passeggeri e le previsioni dell'aeroporto sono che arriveranno fino a fine ottobre a Napoli 7 milioni di turisti. Siamo impegnati perciò a fare davvero tanto e tanto perché Napoli possa essere la città accogliente, la città aperta e inclusiva come nella sua storia, come nella sua identità. Ciao!